Buongiorno a tutti, stiamo procedendo verso il mare vecchio, alla Tonnare, eccoci qua in questa stradina, è una spesa immobili, è un sento di ossido sicuramente, è una bella giornata, adesso arriva una macchina, è abbastanza rare, è una giornata molto bella, piacevole, non c'è caldo, non c'è freddo, si sta bene, a tutti, sicuramente non c'è palata, che si mangia un ortaggio, ma una terra così scura, una terra così scura è magnifica per gli ortaggi, Questo è il territorio più grosso di Apola, con una terra pulita e senza piedi. Qui hanno costruito seconde case polpiavolesi. Siamo ancora a circa una 50 metri sul livello del mare. Stiamo scendendo la strada provinciale Avola-Calfa-Bernardo, in recontrata ciccinata. Già il termine ciccinata sa significare le coltivazioni dei legumi che si facevano nella contrada, oppure la contrada ciccinata che attraversavamo, che attraverseremo, dove si coltivava la contrada a zucchero. E accanto alla contrada ciccinata non dimentichiamo la contrada a San Marco, che era un porto felicio, secondo Orrado Sofia, lo settore giornalista famoso, di moto e non solo.